Avevo fatto un po' di tempo fa una specie di video, uno slideshow con la musica su cinque buoni motivi per scrivere, ma gira così in fretta che io stesso non riuscivo a prendere nota di quali erano i cinque buoni motivi per scrivere. Come ho potuto ho cercato di riprenderli qua, diciamo che se ne sono forse anche più di cinque. Allora mi sembra che scrivere a più mani aiuti le persone che partecipano ai momenti di scrittura collettiva a pensare, a lavorare, a ideare, a fare ordine, a partire dalle loro esperienze, a partire dalle cose concrete, materiali che fanno. Cioè scrivere è un modo per ritornare all'esperienza, per riconsiderarla e anche proprio lavorarci sopra, metterci le mani. Poi un'altra cosa che avevo provato a fissare era che scrivere ci aiuta a predisporre dei repertori d'azione. Cioè ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti, di prelavorati, di punti da seguire. Quindi ci aiuta proprio ad avere a disposizione tanti materiali, tante frecce al nostro arco. E quindi farlo insieme rende più ricca, più fine, più precisa questa azione di messa a punto degli strumenti. Poi c'è questo tema che scrivere insieme è un modo per imparare e che scrivere insieme è anche un modo per far emergere e sottoscrivere i problemi. E poi scrivere insieme, ho notato, mi è sembrato di osservare, quando scrivo con altri mi succede questa cosa e vedo che un po' succede anche a delle colleghe e dei colleghi, che ci si sente un po' più forti, un po' più efficaci, un po' più capaci di prendere parola nei contesti. E prendere parola è una di quelle azioni necessarie nella partecipazione, se si vogliono costruire insieme dei progetti, delle idee e se si vuole anche generare questa creazione di qualcosa che prima non c'era. È proprio necessario entrare nel dialogo, nel dibattito, nel confronto e portare ciascuno un po' i propri contributi. Quindi scrivere mi sembra che ci abiliti ad essere più capaci, più sicuri, più sicure nel prendere parola. E poi volevo dire che scrivere a più mani è un'attività che ha una dimensione, suona male magari dire di gioco quando vogliamo essere molto seri e pensare al lavoro, ma certamente ha una dimensione di fare molto concreta e io trovo anche proprio arricchente e anche quindi divertente. Poi l'altra cosa che ho pensato di segnalare è questa, che ci sono tante tipologie di scrittura e ovviamente ci sono tanti contesti di scrittura collettiva. A noi capita di facilitare la scrittura collettiva tra ragazzi e ragazze o tra bambini e bambine e tra adulti naturalmente, che vogliono provare a fermare dei confronti, delle riflessioni. Qui ho invece messo proprio così, giusto per cercare un po' di orientarmi, di dire che ci sono delle scritture verticali. Penso ai manifesti, ma volevo segnalare anche a tutte quelle informazioni che a volte scriviamo per orientare le persone negli uffici, nei nostri contesti di lavoro, quando facciamo delle locandine, c'è tutto quello che utilizziamo in verticale. Poi ci sono delle scritture che hanno come tempo di arrivo il futuro, i piani, i piani strategici, i progetti. E poi ci sono invece delle scritture che documentano e approfondiscono i lavori che facciamo. E sono scritture che si fanno, a volte non ce ne rendiamo conto, ma a più mani, quando l'ipotesi di fare un manifesto da soli esiste, è plausibile, però in genere è l'esito di un confronto, così come un piano strategico o un progetto, molto spesso è l'esito di tanti passaggi che coinvolgono tante persone. E poi c'è anche una scrittura più dentro i network, i sistemi organizzativi, che è mettere a punto degli strumenti di lavoro. Questa è un'altra cosa che volevo provare a dire. E poi volevo dire un'altra cosa, così da mettere un po' a disposizione, che un conto è scrivere con e un conto è scrivere per, abbastanza ovvio. E quando facciamo le scritture collettive, se noi ci avviciniamo alla pratica dello scrivere, non tanto al senso che ha, al prodotto che riuscirà, ma proprio al processo scrittorio, all'azione dello scrivere a più mani, a quel tempo che passiamo scrivendo con qualcuno online o in presenza, o anche a volte un mix di queste cose, abbiamo osservato, insomma, con altri colleghi, che è scrivere come fare qualcosa sul prodotto in fieri che producono altri. Quindi scrivere non è così semplice, cioè si entra proprio nella dimensione produttiva delle altre persone, è un continuo, cioè ci vuole un coordinamento nella scrittura, una pazienza. E anche a volte, io ho trovato che a volte, prima di concedersi di scrivere insieme, c'è come un po' di imbarazzo, perché ci si espone molto a scrivere con gli altri, con le altre persone, cioè ci si scopre molto. E scrivere insieme a volte può essere un'azione, se non si è un po' delicati, un'azione intrusiva, un po' invadente, perché si entra sull'espressione, sulla creazione, sull'identità che si esprime delle persone con cui proviamo a scrivere. Ma anche solo in una riunione informale tra cittadini di un quartiere, c'è da buttare giù quattro note alla fine. No, cambia qui, sistema lì. È un attimo che si va, cioè è un attimo non tenerci insieme in un dialogo un po' più armonico. Quindi la scrittura ha anche come delle asperità, dei lati un po' taglienti. E un po' di tempo fa con un collega avevamo scritto questa cosa qua, che adesso l'ho messa qua, ma perché mi fa anche un po' sorridere su questi suggerimenti per scrivere in coppia online. Cioè come darsi un po' delle coordinate per essere così, anche per essere efficaci. Poi volevo segnalarvi, sono poi le ultime battute, che abbiamo lavorato con i colleghi e le colleghe alla scrittura di documenti. E adesso mi sposto, non so se la visualizzazione si sposta con me, non so se avete visto che ho cambiato, chiedo un aiuto. Ok, grazie, grazie Fedele. Qui, su questa pagina di Pares, l'organizzazione di cui sono socio e dove lavoro, abbiamo messo tanti manifesti che abbiamo prodotto. Diciamo che la costruzione di esiti scrittori, di manifesti, di canvas, di documenti molto visuali, molto pubblici anche, è un po' un tentativo di dare visibilità al lavoro che si fa insieme. Cioè produrre insieme dei pensieri, delle proposte, delle occasioni, e dare a queste riflessioni collettive la possibilità di propagarsi, di diffondersi e entrare a far parte di un dibattito più ampio. E questo vuol dire alimentare, cioè contribuire all'elavorazione collettiva anche più vasta. Non so se ho terminato il tempo, però. Ah, avresti ancora due minuti. Un paio di minuti, se vuoi anche parlarci di qualche strumento particolare. Sì, volevo forse, non so, vorrei dirvi questo, che per l'online, dal punto di vista molto operativo, usiamo Miro, non è l'unica piattaforma. Dal punto di vista della scrittura collettiva, molto spesso cerchiamo di mettere a punto, o prima come gruppi di lavoro che preparano le condizioni di lavoro, o insieme alle persone che partecipano, cerchiamo di mettere a punto dei canvas. Adesso qui io scorro molto rapidamente dei manifesti. Alcuni servono più per dire delle cose, altri per segnalare, qualcuno serve più per lavorare. Questi sono più rendicontativi, sono manifesti, questo è un bilancio sociale, che è una forma di scrittura, se è fatta più umano il bilancio sociale, se è l'esito in percorso partecipativo, essa stessa, come dire, scrittura collettiva, rendicontativa. Invece volevo portarvi a vedere, qui sono dei ragazzi e delle ragazze che hanno lavorato per dire come vogliono gli spazi. Sono manifesti con formati differenti. questo, ad esempio, scusate, vado velocissimo, guardate quasi, ecco, in questo caso si è trattato, questo conta su di noi, si vede poco, ma è l'esito di un lavoro con tanti volontari e volontarie di diverse organizzazioni, una trentina, che attraverso un manifesto hanno provato a fare un'operazione di riconoscimento, ma anche un'operazione fondativa e programmatica di una rete. E poi, forse un suggerimento, cioè, ecco, questo qua si presta a dire che ci sono più che affermazioni delle domande ed è un sostrato, un supporto che crea uno spazio perché le persone scrivano insieme. Allora diventa abbastanza importante nella scrittura collettiva capire come fare a facilitare la scrittura più umani e creando degli strumenti come possono essere i canvas, prendendo spunto proprio dall'idea che ci sono delle domande, degli spazi e che insieme chiediamo alle persone di lavorare anche a modificare, a trasformare questi strumenti, ma anche ad arricchirli di risposte per alla fine riuscire a costruire un prodotto collettivo. Non so se questi spunti un po' così, magari non molto ordinati, ma erano forse anche delle sollecitazioni e concludo dicendo che mi sembra abbastanza importante anche ragionare, l'ho tenuto di là, abbiamo fatto un manifesto sulla scrittura collettiva proprio, scrivere le ragioni per scrivere a più mani. Era l'esito di un percorso che aveva coinvolto 18 persone di un'organizzazione a gruppi di tre, quindi sei gruppi da tre, che hanno scritto sei articoli, con tutta la produzione che è avanzata che non siamo riusciti a mettere da nessuna parte e ragionandoci un po' è uscito questo manifesto sul fatto che la scrittura collettiva anche non dice mai l'ultima parola secondo noi in quel momento che stavamo lavorando e anche che la scrittura collettiva è un atto civico, politico, è un atto di costruzione della comunità.